e poi portare i grandi eventi nelle piccole comunità. Da diversi anni lo stiamo facendo con successo. Nella nostra manifestazione sono passati circa 2000 artisti, sia regionali, nazionali e anche internazionali, perché c'è un confronto artistico. I nostri giovani musicisti, talenti, molisani, registi, attori, eccetera, si confrontano con le grandi personalità del mondo dell'arte e della cultura, in genere, sia nazionali che internazionali. L'anno scorso abbiamo avuto la presenza di Vittorio Sgarbi, altri anni abbiamo avuto grandi balletti nazionali e internazionali, spagnoli, cubani, argentini. Poi naturalmente ci sono i nostri talenti giovani, quindi orchestra molisani, gruppi molisani, molto bravi. Quest'anno abbiamo inserito un po' di teatro, quindi abbiamo voluto premiare anche queste iniziative del Vaion, che ha riscosso molto successo nel Molise, quindi abbiamo inserito, diamo il premio a questo spettacolo, che poi rappresenta una tragedia.